Superare la logica dei campi ghetto, offrire accoglienza e integrazione a chi vive nel degrado. Così l'assessore al welfare Sergio D'Angelo ha commentato l'avvio delle attività di recupero dell'area della Marinella nel quartiere Mercato. Mercoledì 18 lo sgombero dell'area è stato completato in mezza giornata e senza resistenze. Nei giorni precedenti il comune aveva informato gli abitanti dell'area tramite gli operatori sociali che lavorano sulla zona e prospettato il trasferimento in strutture d'accoglienza. Risale a metà degli anni 90 il progetto per trasformare quest'area in un parco urbano, poi nel tempo la sospensione dei lavori, il progressivo abbandono, la costruzione di un piccolo insediamento precario abitato da rom e da migranti in condizioni di difficoltà. In questi anni la gente ha confuso le differenze dovute agli stili di vita, alle differenze culturali con la condizione di abbandono nella quale abbiamo lasciato vivere centinaia, migliaia di persone. È il primo tempo di un impegno più sostanzioso che deve comportare l'allineamento delle politiche di welfare cittadino alle politiche europee che prevedono di assicurare assistenza sanitaria, percorsi di inserimento sociale e lavorativo, percorsi di integrazione scolastica per i bambini e soprattutto politiche abitative. Questo è quello che occorre fare, chiudendo definitivamente la stagione dell'abbandono, la stagione incivile dei campi. Una parte delle persone trasferite dal campo sono state accolte nella struttura dell'ex scuola Grazia dell'Edda, a Soccavo. Qualche ora dopo è cominciata la bonifica dell'area con l'abbattimento delle baracche e la rimozione dei rifiuti.